Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Ebbene sì, i francesi stanno cercando di far credere al mondo intero di essere degli stolti, di essere degli stupidi, di aver preso un colossale granchio, tutti compresi. Addirittura in Italia anche gente che si occupa di comunicazione, youtuber più o meno conosciuti, così parlano di un colossale granchio preso da parte nostra. Io non ci credo, io non ci credo nella maniera più assoluta. Io ritengo semplicemente, ed è il mio parere, per carità posso avere torto, io credo semplicemente che ci troviamo ad una colossale messa in scena, una furbata da parte del signor Thomas Jolly, Jolly, o come cavolo si chiama questo personaggio, e di tutto l'apparato che sta dietro a lui, no? Perché lui non è che è un esperto di comunicazione, lui è un esperto di arte, è un esperto di scenografia, di queste cose. Poi è chiaro, chi ha quel tipo di vocazione, poi studia anche comunicazione, ma non è il suo pezzo forte, come si suol dire. Però sicuramente quelli che gli stanno dietro, l'apparato che gli sta dietro, fatto invece da persone che da questo punto di vista hanno una grande esperienza, hanno fatto in modo, se non addirittura era già tutto preparato, di far credere al mondo che siamo degli stolti, perché quell'immagine, l'ultima cena, non è assolutamente l'ultima cena, ma è una raffigurazione di qualcosa che è stato messo, non so se a livello di scenografia, a livello di rappresentazione, adesso io non sono un esperto in questo campo, ma insomma si tratterebbe di un qualcosa che fa riferimento a un autore che l'ha messa in scena secoli fa, tra l'altro assolutamente sconosciuto alla maggior parte delle persone. Io non mi sono neanche segnato di chi si tratta, ma se avete questa curiosità andate a scoprire a chi si riferisce Thomas Jolie e tutto il suo entourage, a quale scena realmente loro hanno fatto riferimento e ditemi se avete mai sentito parlare di questo autore. Ma vedete, io credo che questo, ripeto, sia una colossale furbata da parte dei francesi, perché probabilmente avevano già preparato nel momento in cui ci fosse stata una forte reazione, la scusa pronta da poter porgere all'opinione pubblica e in particolare a questo caso al clero francese che in maniera molto dura ha contestato questa messa in scena. Allora, credere che tutti quanti, compreso il clero francese, ma anche personaggi da arte di grande livello abbiano preso un colossale granchio pensando che quella fosse la raffigurazione dell'ultima cena, è assolutamente non credibile. Quindi io non ci credo, io sono rimasto perplesso che anche persone che conosco nel nostro mondo, potrei citare, che ne so io, Mimar, che sicuramente qualcuno di voi ha già ascoltato, magari segue, parla di granchio. Io non so mai talvolta se Mimar è ironico oppure se in questo caso realmente ci crede, avevo il dubbio mentre lo ascoltavo, il dubbio non ce l'ho più perché lui alla fine fa riferimento ad una collaboratrice grande esperta di queste materie che racconta esattamente come sono andate le cose e chiude alla fine appunto parlando di colossale abbaglio preso da tutti. E quindi vuol dire che Mimar è convinto di questo. Caro Mimar, in queste circostanze io non sono, ripeto, assolutamente d'accordo, ma vi dico adesso in chiusura anche perché, perché non posso essere assolutamente d'accordo. Ora vedete, al di là di quello che io metto in scena, al di là di quello che è il mio pensiero, al di là di quello che lui voleva o non voleva trasmettere, sto parlando sempre di Thomas Jolie e del suo entourage. Il problema è un altro, scusate, è quello che arriva all'opinione pubblica. Allora, caro Thomas, se tutte le persone, la stragrande maggioranza sul pianeta, ha pensato che quello fosse la raffigurazione dell'ultima cena, è chiaro che, voglio dire, è quello che passa come messaggio. E chi comunica, chi mette in scena qualsiasi cosa, deve sapere questo, che quello che lui mette in scena, quello che lui comunica, avrà quel tipo di interpretazione. Quindi in ogni caso, anche se tu fossi in buona fede, hai totalmente sbagliato perché dovevi sapere che la stragrande maggioranza delle persone di questo pianeta avrebbero appunto pensato ad un attacco del cristianesimo perché avrebbero concluso che quella era la raffigurazione, storpiata in maniera brutale, in maniera assolutamente inaccettabile, dell'ultima cena. Questo è il problema, ma ripeto, io credo che tutto era studiato, tutto era studiato nei minimi particolari, anche l'eventuale obiezione, reazione, le scuse da parte loro, che poi sono scuse relative, perché quando tu ti scusi ma dici, beh però a noi sembrava chiaro come per dire, ma stupiti, come siete riusciti a cadere in questo equivoco? È chiaro che non era l'ultima cena, è chiaro che noi non volevamo riferirci a quello, quindi sono scuse ma come per dire che gli stupidi siamo noi, invece secondo me i furbacchioni, loro hanno voluto fare i furbacchioni, ma io personalmente, come penso tanti altri che magari devono ancora esprimersi, io a questo non ci credo. E con questo ho concluso, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.